Bella a tutti signori e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con Eurotrack Simulator 2 Signori, la MaulloSRL Trasporti è tornata sul canale Oggi, signori, continueremo il nostro viaggio verso il nord Europa Perché ricordate, noi non abbiamo nessun camion di proprietà, pigliamo solamente camion, pigliamo lavori E l'obiettivo è raggiungere... ma che sto a dire? L'opposto in Europa, perché noi siamo partiti il punto più alto nell'Europa che c'è segnata in questa mappa Noi siamo partiti da Palermo e ci stiamo arrivando Detto questo signori, prima di partire il video io vi ricordo di iscrivervi al canale Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando a questa serie al canale Vi ricordo di seguirmi su Instagram perché tramite le stories vi aggiorno sulla programmazione dei video che escono ogni giorno sul canale E sulle live che andiamo a fare sia su questa che sull'altra piattaforma, quella delle stream praticamente Dovunque, comunque mi trovate come Maullo941, comunque trovate i link in descrizione Detto questo, non perdiamo altro tempo e partiamo con il video Allora signori, noi l'ultima volta eravamo arrivati qui, se non mi si bagga tutto il computer A Kiel, non so se la pronuncia è giusta Mi sono stato ripreso un attimo nei commenti dello scorso video per la pronuncia E chiedo scusa in anticipo, ma non sono del posto Siamo al limite della Germania, il nostro obiettivo è continuare a salire, vediamo se riusciamo ad arrivare in Danimarca Allora, la prima offerta è Glamrung E torneremo indietro, no Hannover, no, torniamo ancora indietro Roscov, no, torniamo ancora indietro E Roscov, ottimo Ottimo, sono tutti i lavori che ci fanno tornare indietro Bella così, ottimo Questa cosa è gravissima signori Questa cosa è gravissima Perché ok che se arriviamo qui a Rostock Poi potremmo prendere la nave e andare a Malmo Ok Però poi dovremmo riuscire in qualche maniera ad arrivare a Gothenburg Per passare dall'altra parte e cercare di salire verso Perché la città più in alto è il Bergen Bergen, Bergen, Bergen Anche se se la gioca con Upsaya No, no, no E certo, il mio obiettivo era riuscire a passare in Danimarca Ma non ci possiamo passare signori Quindi abbiamo Rostock E Rostock Ok Oppure Hannover No, Hannover andiamo a Roppodude E E Glamrug Glamrug però non è Scusatemi Rostock è qua E Glamrug dov'è, scusatemi Sono scemo io Dov'è Glamrug? Scusatemi Rostock è qua Ok Ah no, è Rostock Ma che cazzo è il Glamrug? È quello che stiamo portando noi Ma sono ringredinito io signori Sono ringredinito io Va bene Allora, io direi Questi ci pagano di più di tutti Sì, 4.900 Perfetto Che cosa trasportiamo? Un locomotore Tanta roba Molto pesante E però va bene Con il nostro Scania Partiamo e non perdiamo altro tempo Da lì poi speriamo di arrivare Riuscire ad arrivare in Svezia E poi passare in Norvegia Andiamo signori Scendiamo in campo Scendiamo in campo? Scendiamo in autostrada Che scendiamo in campo? Mica una partita di calcio Ok, ci siamo signori Il nostro bellissimo Sub Scania Ce l'abbiamo Interni puliti Il camion è pulito Il tettuccio L'abbiamo già preso una volta Questa camion Se non sbaglio Penso di sì Penso di sì Vediamo il locomotore dietro Bella roba Tanta roba Tanta roba Bello pesante Non perdiamo tempo signori Accendiamo il nostro mezzo Ok E si parte Si parte Si parte In qualche maniera si parte In qualche maniera Arriveremo signori Sperando questa volta Di non prenderci niente davanti Che l'ultima volta è stato tragico Abbiamo distrutto mezzo camion Riusciamo a fare la curva Senza fare danni Dai così Sì Ok La prima è andata Siamo riusciti a uscire dal parcheggio Questa già è tanta roba Già riuscire a uscire dal parcheggio È tanta roba Quindi se non sbaglio Noi siamo ancora in Germania Io speravo di riuscire a uscire dalla Germania Oggi invece Continuiamo a essere in Germania Ok Allora siamo a 234 km Dalla nostra meta 3 ore e 46 secondi Il videogioco Ma voi vedrete questo video Durerà se no 15 minuti Massimo Quindi in 15 minuti Noi attraverseremo mezza Germania E arriveremo a Dove cazzo la stiamo andando? Boh Non ricordo minimamente Dove stiamo Qual è la nostra meta Stiamo viaggiando senza una meta Cosa cazzo la è quella cosa lì? Bellissimo È tipo tutto un... Ah no sono dei tubi Pensavo fossero tipo Una pista Un qualcosa Di trasporto Vabbè niente Super Qua avevamo precedenza Quindi faccio bene a tirare dritto Senza guardarmi troppo indietro Qua c'è un semaforo verde Vediamo se riesco a prenderlo Però non vorrei evitare di schiantarmi male Quindi freniamo un poco Ok Abbiamo un locomotore dietro signori Quindi vorrei portarlo sano Cortesemente Ok Perfetto Va bene signori Il viaggio per ora Sembra che sia iniziato bene Sembra che sia iniziato bene Siamo lentissimi Ma la pena fare 40 km Quanto cazzo la pesa Sto locomotore Porca miseria Dovevo darmi una macchina Un camion potenziato Praticamente No sta ciofeca Oh qua è rosso Frena 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 Rispettiamo i semafori L'ultima volta abbiamo preso Una multa Per aver bruciato Un semaforo rosso Quindi va bene Rispettiamo i semafori Facciamo le persone oneste Civili E rispettiamo tutto Papa maù lo insegna Papa maù lo insegna Ok signori Dove sta andando questo Ah zio Ma che vuole Dai 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 che lo brucio Sì lo brucio Con questa ciofeca De camion che mi ritrovo Mamma mia Già sai che riesco a partire Praticamente Già sai che riesco A ingranare le marce E andare avanti Mi sento un poco storto C'è qualcosa che non mi torna Nella visuale Mi sento un poco storto Siamo in mezzo alla strada Ma sì così Prendiamoci il possesso Di tutta la strada Stiamo uscendo da Kiel Chiedo scusa ancora in anticipo Per la pronuncia Signori ma Non ci sono mai stato Quindi non l'ho mai Nemmeno sentita Sono ignorante Chiedo scusa E quindi non so Di cosa stiamo parlando Va bene signori Siamo a 226 km Nell'arrivo La polizia ci ha superato Nelle van Così Va bene Siamo a 52 Siamo entro il limite di velocità Andiamo pianissimo Questo viaggio sarà molto lungo Molto lungo e pesante Va bene signori Detto questo ci vediamo Al prossimo aggiornamento Al prossimo aggiornamento Io continuo a guidare In solitaria Signori Ci vediamo al prossimo aggiornamento Puppu Aggiornamento del comandante Sul viaggio Che ci sta portando Alla nuova meta di destinazione Che non mi ricordo Come cazzo la si chiama Signori Siamo a 176 km Il viaggio sta andando bene A parte una macchina Che mi voleva superare Quando stavo cambiando corsia Dico non era colpa mia Era lui che mi voleva superare Mentre io stavo cambiando corsia Non si era accorto Che stavamo cambiando corsia E ce lo siamo presi Un attimo davanti Quindi mi hanno dato Una multa di 200 euro Questo è scemo Questo è tutto scemo Guarda questo Dico mi ha superato E poi si è infilato Nella corsia Come se fosse lui Il padrone della strada Ma levati dalla cippa Dai così Mamma mia Solo perché c'ha l'audio Poi si sente padrone della strada Ma che stai a dire Dai con calma Dai con calma Allora Pesa tanto qui sto camioncino Sto camioncino pesa tanto Dai che lo superiamo all'interno Grande Ma chi siamo Luisa Hamilton Grande così E questo pure all'interno Senza paura Senza pericolo Easy busy Lamo squisi Signori Dai così Siamo giusti Sì ok Siamo nella strada giusta Ecco ho avuto un attimo Paura che vi siamo sbagliato a strada No invece siamo Nella strada giusta Ok Ok Siamo a 154 Kilometri signori Mancano 2 ore e 22 secondi Il gioco Secondo me 10 minuti E finisce sto video Non vi preoccupate Non vi preoccupate Molto più veloce Dove stiamo andando noi A Roste Ah stiamo andando a Roste E che devo girare di qua Mannaggia Ma porca Meno male che ho guardato Il cartello Poi ho guardato Il navigatore E meno male che mi sono accorto E dovevo girare a destra A momenti tiravamo dritto E andavamo non so dove Da tutt'altra parte Questa c'è la Jeep gialla Bella Ma quanto mi piace la Renegade gialla Bellissima Bella 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 Ok signori Dopo una serie di Un attimino di Confusione Tecnico Tattica Siamo riusciti A imbaccare La strada giusta Siamo a 139 km Dal nostro metro di destinazione E ci vediamo dopo Per un prossimo aggiornamento Signori Siamo a 108 km Dal metro di destinazione Ma dietro quest'albero Che c'è davanti a noi C'è una palla blu Che cazzo era lei Quella palla blu L'era andata a cercare Su Google Maps Signori Che cazzo era lei Quella palla blu Ma è bellissima Ma cos'era Qualcuno la conosce C'era un monumento Con una palla blu In alto Che non so cosa potesse essere Da andare a vedere Finalmente un monumento Che posso andare a cercare Su Google Maps Per vedere Se esiste veramente Lo andrò a cercare signori Vi farò sapere In un prossimo video Se realmente esiste Quella palla blu O sono gli alieni Che hanno messo qui Nel videogioco Che stanno venendo A conquistare il mondo Signori Che cazzo No dai L'autovelox No giustamente Dico Stiamo per arrivare Al confine della Germania Che vuoi Una mia ultima fotografia Non me la dano una fa Ma porca miseria L'autovelox Da quant'è che non prendevamo L'autovelox Ah Mannaggia la miseria Allora qui sta diventando Qua c'è un poco di cacciare Signori Tante macchine a superare Camion Ciao zio Dove state andando Non si non possono fare Le gite per ora Dove stai andando zio Forse devo tenere il camion Sulla retta via Ok Mi piace Mi piace parlare Sto sempre da solo Con il camion Quando vedo qualcuno Con cui parlare Mi ci metto a parlare Però va bene Dobbiamo evitare Di distruggere Il locomotore Se no Cosa cazzarola Ci portiamo Ok Devo riuscire a superare Quello con le macchine Devo riuscire a superare Quello con le macchine Dai 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 camiongino Dai camiongino Corri Corri Questo sta frenando Ok Perché mi ha visto Dai E così Che macchina sta portando Questo zio Me ne dai una Che macchine c'hai Che macchine c'hai Signori C'ha delle tipo Forse No Ma che macchina Sono delle scoda Ah delle scoda Sono ok Le ho riconosciute Poi dal profilo Ok Riusci a fare la curva Senza ammazzare nessuno Perfetto Dove stiamo Dove andare dritto Per Rostock Rostock Spero in questa cosa Signori Che la pronuncia Sia giusta La polizia Ci ha superato Ma andiamo a 78 km orari Meglio così Un autovelox Evitato Signori Meno male che Questo camion È lento Come una rumaca Praticamente Se no ci prendiamo Un'altra multa Andiamo dritto Meno male che Dobbiamo andare dritto Se no Finiva male Volavamo giù dal ponte Signori Volavamo giù dal ponte Ok Siamo a 50 km Dalla nostra destinazione Dovremmo iniziare A intravedere qualcosa Forse non so Forse vedremo Ok signori Siamo a 28 27 km Dobbiamo uscire Dall'autostrada E siamo proprio Dentro Rostock Praticamente Freniamo un poco Frena 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 Ok Bello così Soft Frena Frena Z Frena Ok va bene Ho frenato un poco troppo Mi rendo conto ma mi sono visto Il muretto lì a fianco di terra Al momento Finivamo sulla terra Che facciamo il rally Con Con locomotore Praticamente Va bene Dai 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 Ok Siamo usciti dall'autostrada Da dove arriva quel camion Mamma mia Ci ho avuto un attimo paura Ho visto quel camion Spuntato di botto Ho detto Ma da dove cazzo non arriva Dalla terra Praticamente No Invece c'è l'autostrada L'entrata Praticamente Dall'altra parte L'autostrada Che non l'avevo minimamente visto Perfetto Ho avuto un attimo Un infarto Un camion volante Riusciamo a superarlo questo? Dai così Spingi 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 Dagli così 57 km Dai così Spingi No Non ci riusciamo Ora lo tampono Ora lo tampono No 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 Deve essere un sorpasso regolare Deve essere un sorpasso regolare Niente Non riusciamo a superarlo Ma vaffa Ma porca Ma porca paletta Ma porca miseria Niente Se n'è andato Mettiamoci dietro No ma stiamo a scherzare Ma io dico Ma 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 Boh Rostock esplorata Signori Ok Siamo a Rostock Siamo a Rostock Dove cazzo devo andare io? Ok Qui non Concessionario Renault localizzato Che me ne frega a me Concessionario Renault Dove devo andare io? Ok di qua Ok ok Frena 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 Ci siamo fermati Ci siamo fermati Questo Questo Basta Ci siamo fermati Va bene così Va bene così Va bene così Lui se n'è andato Lui direttamente Basta Gli cercava aspettare il semaforo verde Se n'è andato Dico Va bene Lo abbiamo un attimino noi Invogliato ad andarsene E se n'è andato Non se l'è fatto Dire due volte praticamente Va bene Va bene Va bene Ok Non ci pagheranno niente Per questo viaggio Però va bene Va bene L'importante è essere arrivato a Rostock Signori Chiedo ancora in anticipo Scusa per la pronuncia Però ci siamo Siamo arrivati Siamo arrivati Dove è la nostra zona di destinazione Vedo la bandina rossa Qui abbiamo precedenza Quindi andiamo dritti Senza Senza crearci troppi problemi Ok E sulla destra Quindi penso Dobbiamo arrivare in fondo A questa strada E poi girare a destra Giriamo di qui O dobbiamo andare ancora oltre Dobbiamo No Dobbiamo girare di qui Dobbiamo girare di qui Quindi con calma La prendiamo frenando Ok Signori Siamo dentro E frena pozzarola Ok Ce l'abbiamo fatta Te lo parcheggio io Senza problemi Perfetto Lo vuoi messo lì Ok Ce la faccio Ce la faccio Soltuna dobbiamo girare Dal lato opposto Ok Gira 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 Ok Inizierà a drizzare Vai 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 dritto Vai dritto Vai dritto Vai dritto Vai dritto Dai così Dai così Dai così Dai così Dai così Dai così Dai che te lo parcheggio Dai così Dai dai Dammi il verde Dammi il verde Dammi il verde Bravissimo Dai con la T Calalo E questo viaggio E' andato in porto Signori Ce l'abbiamo fatta Siamo vivi Siamo vivi Ottimo lavoro Buono così Abbiamo preso Allora Penetà per danneggiamento Sono dentro 326 euro Ok Meno male che le multe Non ce le pagano loro Quanto meno Evitiamo di perdere Anche questi soldi Siamo quasi al limite A livello 5 Buono così Buono così Signori Ok Detto questo signori Io vi ringrazio Per aver guardato questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti E per il supporto E noi ci vediamo Sempre qui sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao Ciao